Hanno tra i 18 e i 22 anni i presunti autori della rapina messa a segno domenica pomeriggio ai danni di un venditore di rose lungo il corso principale di Benevento. Le hanno identificati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia che dopo neanche 24 ore hanno individuato i responsabili del colpo che aveva di stato scalpore in tutta la città. Per tutti è scattata la denuncia per rapina. Come si ricorderà erano circa le 13 quando i tre giovani arrivati nella zona tra Piazza Roma e Via Traiano in sella delle biciclette elettriche avevano picchiato il rapinato di 20 euro il 25enne di nazionalità bengalese. I militari avevano ascoltato una serie di persone e acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza installato nei pressi di un negozio. Nei prossimi giorni gli indagati saranno raggiunti da un avviso di garanzia. Successivamente potranno spiegare il perché di un gesto tanto violento nei confronti del bengalese non escluso infatti che alla base dell'aggressione non ci sia solo un momento economico ma altro.